Salve a tutti e benvenuti finalmente ad un altro video. Innanzitutto ho alcune cose da dirvi prima di iniziare la vera e propria recensione. Grazie ovviamente a chi nuovamente ha ricreduto in questo progetto dopo lo stallo di questi mesi perché insomma diciamoci la verità è difficile ricominciare e è difficile ricominciare anche bene. Quindi sicuramente un grazie a chi sta credendo a questa rinascita perché ho ricevuto comunque molti complimenti e è presto, infatti vedrete anche altre novità. Quindi spero davvero insomma che questo lavoro vi piaccia perché è veramente una mia grande passione. Quindi insomma sono contento che alcuni di voi appunto hanno creduto e hanno continuato a credere in questo progetto nonostante i mesi di stallo. Seconda cosa avete visto che quando parte la sigla vedete delle immagini abbastanza particolari che generalmente cambiano. Quindi a ogni video queste immagini cambieranno. Sono delle immagini, delle raffigurazioni horror che sono state disegnate sulle sticky notes, cioè i post-it, da un artista canadese che si chiama Don Ken. Di cui vi linkerò appunto qui sotto il link al suo blogspot dove appunto potete trovare tutte le sue illustrazioni proprio su sticky notes. E sono diciamo come vedete dei disegni abbastanza particolari, molto inquietanti, però nello stesso tempo anche molto affascinanti. E sicuramente sono originali proprio perché insomma non solo il supporto artistico è molto particolare, ma anche il tipo di disegno e di raffigurazione sono alquanto a mio parere suggestivi. Torniamo allora, dopo aver detto insomma queste prime cose, torniamo al film e la categoria appunto di oggi si chiama Blood on my face, che in italiano sarebbe sangue sulla mia faccia. Ed è una categoria che raccoglie una serie sia di film cult, sia di film non cult o indipendenti, splatter, quindi di genere diciamo splatter o torture porn. Insomma quel genere che fa spesso uso di torture in cui si vedono spesso appunto scene espliciti di uccisioni, in cui diciamo il sangue è il vero protagonista della scena. Però questa è una categoria molto particolare a cui tengo fortemente e di fatti in questa categoria ci saranno non dei film qualsiasi, cioè degli splatter qualsiasi, ma degli splatter particolari dove il voler mostrare un certo tipo di violenza serve a qualcosa. Cioè il mio obiettivo è quello praticamente di analizzare e recensire particolari film che utilizzano un tipo di violenza per trasmettere un messaggio. Quindi utilizzano un mezzo forte per trasmettere un fine comunque altrettanto forte. Per esempio vi faccio appunto un esempio chiarificatore di questo. Esiste un film che si chiama The Woman, la donna, che probabilmente recensirò in questa categoria, che è un film violento, appunto ci sono non solo scene di violenze carnali, ma anche cannibalismo al suo interno, scene di stupro, appunto, violenze sulle donne, maltrattamenti, eccetera, eccetera, violenze psicologiche, eccetera. Ed è un film che utilizza questi mezzi crudi, in cui appunto rivediamo la sottocategoria horror dello splatter e del torture porn, ma per esprimere un messaggio, che è appunto quello di denunciare la violenza sulle donne e il maltrattamento, appunto, su di esse. E posso fare veramente tantissimi esempi, ma direi che la cosa migliore è vedere poi nel concreto cosa sia questa categoria. E il film che voglio recensire oggi è un film molto particolare, molto discusso, e che a me è piaciuto molto, e quindi non è che volevo far conoscere, perché penso che la maggior parte degli amanti dell'oro già conoscono e hanno visto questo film, ma volevo discutere su alcuni punti, perché appunto questo è un film di cui spesso si parla come film controverso, film che ha suscitato diverse polemiche, e quindi volevo, diciamo, esprimere la mia opinione e soprattutto discutere sul perché questo film, che utilizza la componente violenta, in questo caso del cannibalismo, lo usa per una fine nobile, cioè per denunciare la società contemporanea, come vedremo. E il film in questione è Cannibal Holocaust del 1980 di Deodato. Deodato è uno dei più importanti registi horror italiani e che ha dedicato, diciamo, la maggior parte della sua cinematografia proprio al cinema di genere, al cinema horror, soprattutto alla tematica del cannibalismo. Però, per esempio, anche un altro film suo famoso è proprio Anthropophagus, cioè Cannibale. Però Cannibal Holocaust è sicuramente il suo manifesto, il suo monumento d'artista, e vediamo appunto quali sono le sue caratteristiche peculiari, analizzando in breve la trama. Non, vista l'ultima recensione, non racconterò la trama nel dettaglio perché non lo so fare, ma vedrò, insomma, di illustrarvi i punti fondamentali per capire poi, diciamo, la discussione. Più che recensioni, in realtà, io faccio cineforum, però vabbè, il termine recensione è più bello. Allora, partiamo proprio appunto dai punti, punti fondamentali di questa trama. Il film parla di un ricercatore che viene ingaggiato, praticamente, da questa emittente televisiva, poiché, scusatemi, poiché la truppo che era incaricata, formata da quattro ragazzi, che era incaricata di andare a fare un servizio in Amazzonia, appunto, per scovare questi cannibali, non si trova più e non si hanno più tracce di loro. Per cui questo professore, accompagnato, ovviamente, da un indios, un cacciatore, insomma, una serie di gente che va con lui, si reca in Amazzonia e una delle prime tribù che vede, praticamente, indica, ovviamente, nella loro lingua delle capanne bruciate e quindi si vede proprio nella sua espressione la paura, quindi sicuramente sta raccontando una vicenda che è successa, una vicenda o di guerra oppure comunque triste, come si scoprerà poi alla fine. Alla fine giungono in questo villaggio di, appunto, popolazione indios di cannibali dove, praticamente, il capo tribù porta il professore a scoprire i resti, gli scheletri di quattro reporters e dà consegna al professore, appunto, o meglio, il professore trova, appunto, questi, il materiale che i reporter avevano firmato e la spedizione si conclude con il professore che viene invitato ad un pranzo cannibale da questa tribù. Tornato in città, che se non sbaglio è New York, ma non ne sono sicuro, il professore esamina, appunto, insieme al gruppo, insomma, d'equip dell'emittente televisiva il materiale filmato dai reporters e si accorge fin da subito che qualcosa non va. Ora, io non vi racconterò tutti gli episodi, ma ve ne voglio raccontare, appunto, due che sono significativi e che, soprattutto, fanno capire, proprio, la prima parte di questa trama, perché possiamo dire che il film è diviso in due parti. La prima parte è la spedizione in Amazon del professore per ritrovare il materiale, appunto, audiovisivo della troupe e la seconda parte parla della visione di questo materiale e quindi il perché questi reporter sono stati uccisi e, appunto, due sono le scene, a mio parere, degne di memoria della seconda parte del film. La prima, se vi ricordate, poco fa ho detto che il primo capo villaggio indica e parla nella sua lingua con sguardo di terrore, indicando, appunto, queste capanne che sono state ingentiate e nel filmato si vede, praticamente, la spiegazione del terrore del capo Indios. Praticamente, i reporter avevano scoperto che esistevano due tribù rivali, quindi che si contendevano, diciamo, le risorse, sostanzialmente, quindi, appunto, il pesce che si pescava oppure, ecco, il bestiame che si trovava, eccetera. Cosa succede? Queste tribù erano in rivalità fra loro, però una rivalità, tra virgolette, pacifica, la classica rivalità, insomma, dei tempi della preistoria. Cosa succede? Che questi reporter fanno entrare tutti gli abitanti di questo villaggio, comprese donne e bambini, all'interno di queste capanne e infuocano gli animi della tribù Indios rivale che arriva e sta per attaccare, appunto, il villaggio e intanto questi reporter appiccano fuoco alle capanne facendo, praticamente, morire un componente della tribù Indios che non erano riusciti a scappare prima. Quindi si vede, proprio, si vedono queste riprese in cui si sentono le urla dei bambini e le urla di queste donne, appunto, che stanno bruciando in queste capanne e il fuoco è, appunto, stato appiccato dai reporter. Ma l'intento, ovviamente, dei giovani era che, tornati poi dall'emittente nella città, avrebbero rimontato la scena facendo vedere che, in realtà, a bruciare, praticamente, le donne e i bambini alcuni componenti del villaggio non sarebbero stati i reporters ma gli Indios rivali che, in realtà, erano semplicemente venuti chiamati, ovviamente, dai reporters per contendersi, insomma, le risorse e il territorio. Ripeto, una normale guerra tribale una scena che, diciamo, nell'età preistorica ma anche, appunto, nel nostro periodo contemporaneo nelle civiltà, appunto, amazzoniche è una cosa assolutamente normale ma l'intento, appunto, di questi reporter era quello di far vedere come, in realtà, queste tribù siano primitive ma soprattutto, ma soprattutto, violente. la seconda scena di cui vi vorrei parlare è la seguente i tre reporters perché sono tre uomini e una donna decidono di stuprare una giovane che si era, appunto, appena sposata e, appunto, nelle scene del filmato si vede tutta questa violenza tutta questa violenza carnale sulla poveretta però la cosa è ancora più più cattiva più folle perché, appunto, nelle, diciamo, tribù primitive questa è una cosa un'altra consuetudine che noi ritroviamo, proprio sia nel mondo primitivo sia proprio nelle civiltà, diciamo, amazzoniche o, comunque, appunto, dei tribù di questi villaggi che hanno un orientamento tribale che è quello che se una donna viene stuprata essa viene, poi, impalata e, difatti, il marito che assiste alla scena dello stupro impala la donna i reporters, allora si vede proprio una scena in cui inquadrano questa donna appena, appunto, impalata con tutto il sangue che, appunto, ancora ancora sta colando dalla bocca e spiegano, appunto, i modi brutali di questa civiltà amazzoniche che, appunto, impalano le donne ma il tutto è filmato facendo credere che è stato semplicemente il marito a impalare la donna senza che essa scusatemi senza che vi sia una colpa quindi come una specie di rituale barbarico quando in realtà la colpa è stata dei reporter che hanno stuprato e quindi praticamente rovinato la vita di questa di questa giovane donna queste sono le linee generali della, diciamo trama del film il professore dopo aver revisionato il materiale decide di non appunto non pubblicare il materiale poiché lo considera non adatto e soprattutto appunto lo considera un qualcosa di estremo e uscendo dall'emittente televisiva pronuncia leggo appunto la famosa frase appunto che il professore uscendo dagli studi dice che mi sto chiedendo chi siano i veri cannibali e probabilmente la frase finale del professore è emblematica di tutto il messaggio del film mi sto chiedendo chi siano i veri cannibali cioè i cannibali sono queste tribù che noi occidentali definiamo effettivamente primitive che praticano i loro ritiri le loro tradizioni seppur cannibali oppure siamo noi che pur di far vedere agli occhi della gente che queste sono civiltà crudeli sono civiltà primitive e che per forza il concetto di primitivo sia legato a barbarico a usi e costumi assolutamente da disprezzare andiamo a come dire bruciare le capanne di questi indios e a stuprare le loro donne pur di farle impalare quindi questo è il messaggio forte del film cioè è una critica alla società contemporanea e soprattutto ad un occidente che sempre di più si ritiene migliore degli altri poiché si ritiene appunto essere la parte del mondo civilizzata e quindi che come missione data da non so chi debba civilizzare le altre le altre popolazioni questo è purtroppo un fenomeno caratteristico anche degli ultimi anni della storia contemporanea della storia che noi tutti stiamo vivendo cioè quella che l'occidente si vuol far portatore dei suoi valori nel resto del mondo come se i suoi valori siano i migliori mentre gli altri valori sono valori barbari sono valori primitivi da disprezzare e questo è un film del 1980 ma che a 30 anni di distanza anche più scusatemi di 30 anni di distanza 35 anni di distanza è tuttora valido anzi è ancora più valido oggi quindi possiamo inizialmente trovare un carattere di universalità in questo in questo film è il messaggio che lancia cioè la riflessione su chi siano i veri selvaggi cioè quelli che semplicemente hanno un forte contatto con la natura e praticano i loro riti le loro usanze in concomitanza con le loro idee le loro riflessioni oppure noi che pensiamo di essere i migliori pensiamo di essere quelli civilizzati senza capire che appunto nel mondo esistono una pluralità di civiltà e ognuna le sue peculiarità per cui è un film che vuole usare la violenza violenza non soltanto psicologica ma anche visiva perché proietta lo spettatore all'interno dello stupro proietta lo spettatore all'interno dell'incendio di queste capanne quindi della morte di quasi un intero villaggio indios proietta lo spettatore nell'odio possiamo dire anche razziale di questi reporters verso le popolazioni indios dell'amazzonia e quindi questa combinazione a mio parere perfetto fra una violenza psicologica e la violenza fisica e visiva che il film mostra aprono le porte ad una riflessione perché però questo film è criticato la prima critica che è stata fatta a questo film è di essere il regista dice falsamente uno snuff movie cioè di aver usato alcune volte delle scene assolutamente reali per esempio c'è una scena in cui viene squartata una tartaruga e probabilmente quella è una scena appunto in cui realmente è stata squartata una tartaruga va bene possiamo fare una critica moralista ma io penso che finisca lì nel senso va bene è stato ucciso una tartaruga poteva farla al computer poteva farla col trucco poteva farla computer no perché siamo negli anni 80 poteva farla in tantissimi altri modi ha scelto probabilmente una via non eticamente corretta però a mio parere è avere il prosciutto sugli occhi fare i moralisti su questa su questa cosa al posto di riflettere sul vero significato del film comunque questo punto non è stato tuttora almeno da quello che mi sembra verificato nel senso che il regista ha smentito questa scena snuff però si continua diciamo ad avere questa idea ma ripeto può anche aver sbagliato ma mi sembra veramente stupido fare i moralisti senza su questa scena e non discutere sul vero significato del film la seconda tra virgolette critica di essere un film estremo un film effettivamente violento e questo è vero tanto che ancora oggi il film di Deodato è presentato come uno dei più brutali e controversi film della storia del cinema questo è vero però non è violenza gratuita cioè prendiamo un film come può essere The Human Centipede il capitolo secondo o peggio ancora il capitolo terzo dove effettivamente tutta la violenza che si vede e si opera di un pazzo ma è fine a se stessa nel senso che non trasmette alcun messaggio ma di questi film ce ne sono tantissimi lo stesso Hostel anche qui soprattutto il capitolo 2 è un film che si vuole far riflettere un po' sulla folia umana però non ci riesce tanto proprio perché la sua carica di violenza è talmente eccessiva da portare in secondo piano il messaggio diciamo che vuol dare se un messaggio realmente c'è invece Cannibal Holocaust è questo che ho inserito in questa categoria specifica è un film che proprio grazie a questa componente violenta ci permette la riflessione perché se il regista avesse semplicemente a posto di far vedere quelle scene le avesse solamente raccontate l'effetto sullo spettatore occidentale che guarda questo film di denuncia questo pamflet contro questa contro la civiltà occidentale che si ritiene assolutamente migliore non sarebbe stata così efficace quindi la bravura proprio di Deodato qui è stata nell'usare la componente violenta sia visiva sia sonora sia psicologica insomma la componente violenta per imprimere nella mente dello spettatore questo messaggio forte e chiaro mentre film appunto come Hostel o The Human Centipede che seppure vogliono trasmettere un messaggio che quello di la creatura più folla e più paurosa è l'uomo non ci riescono per lo stesso motivo che invece Cannibal Holocaust riesce cioè in Hostel e in Human Centipede la violenza non è giostrata ripeto a mio parere in modo perfetto nel senso sono film in cui il ragazzino sono film che uno vede da giovane da adolescente ti diverti ma appunto ti diverti perché sono film che tu guardi per vedere la gente squartarsi fine o per vedere un pazzo che fa un centipede umano che può essere divertente morboso quanto si vuole ma ci si ferma lì questa violenza così estrema non permette nessuna riflessione invece il film di Deodato in cui in realtà si è estremo ma la violenza è ben dosata nel senso che vi sono in alcune scene specifiche e soprattutto non essendo un film per ragazzini perché non si vede gente che si squarta dalla mattina alla sera ma anzi si vedono scene crude che poi rappresentano diciamo la realtà la realtà dei fatti la realtà che tutti i giorni poi noi vediamo ai telegiornali per quanto riguarda le situazioni di guerra quindi è una realtà cruda non è il pazzo che sta torturando la persona che questo può far divertire perché è morboso eccetera è una violenza appunto non che non vi è in tutto il film ma solamente in certi punti e che è giostrata talmente bene da permettere questa riquezione tanto che se facciamo vedere questo film probabilmente ha un fan sfeggatato di Hostel non lo capirebbe o meglio non lo apprezzerebbe in pieno perché appunto è un film che non vuole semplicemente mostrare la follia di un uomo oppure non vuole semplicemente essere un film che vuole fare divertire perché è morboso ma vuole essere appunto un film denuncia un film che vuole fare riflettere sulla presunzione di noi occidentali occidentali possiamo dire un film antropologico e sociologico in questo senso quindi non è tanto appunto uno splatter fine a se stesso uno splatter tanto per godere delle scene di squartamento e poi dire sì l'uomo vabbè è pazzo ma è uno splatter che vuole invece proprio dialogare con lo spettatore e lasciargli alla fine della visione del film un messaggio molto forte e che appunto deve fare riflettere tutti noi e questo è secondo me il motivo per cui Cannibal Holocaust è davvero un capolavoro non tanto perché è violento o perché c'è questa scena ipoteticamente snuff o perché tratta di cannibali ma proprio perché vuole lanciare questo messaggio molto molto forte e lo fa servendosi di un mezzo potentissimo che è quello dell'immagine in questo caso è l'immagine violenta un esempio potremmo farlo con la questione degli immigrati dei profughi meglio che i migrati profughi di questi giorni cioè perché noi occidentali non abbiamo riflettuto su l'importanza che ha accogliere queste persone prima ma lo facciamo solamente quando la stampa e i mass media ci propinano e ci propongono appunto queste immagini dei bambini che muoiono e che sono morti appunto durante la traversata in mare perché è molto spesso l'immagine violenta l'immagine reale che colpisce la nostra sensibilità e ci fa ragionare ed è lo stesso meccanismo psicologico che utilizza Deodato per cui Cannibal Holocaust non è un film ma va oltre il film perché appunto è una riflessione psicologica sul nostro ruolo di occidente e sul nostro egocentrismo la nostra capacità di ritenersi di ritenerci migliori degli altri più civili degli altri che quindi gli unici che possiamo permetterci di chiamarci civiltà ed è un film che appunto fa riflettere non solo sulla tematica ovviamente degli indios e dell'amazzonia ma anche delle tematiche appunto più attuali come quella degli immigrati o dei profughi nel senso che ci aiuta anche a capire questa situazione abbastanza complicata per cui è davvero una chiave di lettura è una chiave di lettura del mondo appunto in cui viviamo perché ripeto noi che ci crediamo migliori diciamo di accogliere questi profughi perché siamo caritatevoli in realtà dovremmo riflettere sul fatto che le guerre che ci sono in Siria o nella maggior parte dei paesi africani li abbiamo assolutamente causate noi così come quei reporter avevano causato l'uccisione della maggior parte delle persone di quel villaggio indios e soprattutto avevano causato la morte di quella giovane ragazza stuprata con questo e con questa riflessione io vi lascio e vi invito assolutamente a riflettere perché questo è un film che va oltre il film ma è una chiave appunto di lettura sul mondo contemporaneo in cui viviamo e sul predomino dell'occidente io vi invito a riflettere e soprattutto a scrivere nei commenti i vostri pensieri vi saluto vi ringrazio ovviamente per la visione e ci vediamo ad una prossima recensione ciao ciao